Roberto Barbaro, adesso Cirone, vittoria fondamentale contro la capolista Prosinone, vi siete imposti nettamente cercando di essere davanti agli avversari in tutti i tempi? Sì, è la seconda volta che siamo superiori, con questa squadra siamo superiori. All'andata c'è stato un piccolo blackout dovuto a agenti esterni e quando viene arbitrata una partita normalmente ce ne andiamo sempre. L'unica partita che abbiamo toppato sono quattro minuti con l'Antares e purtroppo ci è costato il secondo posto. I ragazzi hanno dimostrato che se vogliono possono sconfiggere chiunque. Adesso, bella prova da parte vostra, è stato fondamentale, ci avete messo in impegno giusto sin dai primi minuti fino agli ultimi. Sì, abbiamo messo in impegno giusto, la mentalità è andata bene, tutto. E poi vediamo questi tiri importanti che fai, già sono diversi i golli che segni. E il modo di dire è molto particolare perché l'utilizzo è sempre il portiere prima che possa partire con le braccia. È il mio stile. Come nasce questo stile? Ma da quando ho iniziato tiravo sempre così, andando avanti ho perfezionato e ora... Sta andando molto bene. Diciamo di sì, dai. Ministro, due giornate al termine, le abruzzesi saranno praticamente arbitri di questo campionato. Dovete recuperare questo punto perché il destino non è dalla parte vostra ancora. Sì, abbiamo fatto il nostro. Poi sta tutto nelle mani delle squadre abruzzesi, come hai detto tu. Noi andiamo a giocare con le gemelle, loro vanno a giocare con lo swing action che è l'ultima in classifica. L'Antares, non ricordo chi dovrebbe giocare, però ha due partite abbastanza facili. Quello che viene, viene. Io sono contento e siamo tutti contenti per i ragazzi, per quello che hanno fatto fino adesso.